Ciao a tutti, come vedete il libro è un libro un po' vissuto, poi vi spiego perché è Il linguaggio delle cose, scritto dal direttore dell'ISEE BUSIN di Londra che è anche un autografo di un amico caro che è Rodrigo Rodriguez Lascio questo libro alla libreria dello Iadi perché questo è il primo libro che mia figlia Bianca che adesso ha un anno e un mese ha letto con me sul design e credo che sia spiegato molto bene, sia da un punto di vista illustrativo e quindi avrei piacere che i miei studenti potessero leggere quando ne avranno voglia Ciao a tutti